Bentornati con le consuite previsioni a cura di Meteo One. Sull'Italia le condizioni meteo tendono a migliorare velocemente e infatti nella giornata odierna ritornerà il sereno su buona parte del territorio. Sul sud Italia il bel tempo permarrà per tutto il ponte del primo maggio, mentre al nord una nuova perturbazione atlantica sarà in avvicinamento. Ma andiamo ora a vedere il tempo nel dettaglio sulle nostre regioni per domenica 30 aprile. Al mattino fresco con poche nubi e cieli soleggiati ovunque. Durante il pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi con nuvolosità alta sparsa che potrà interessare alcune zone. Durante la sera cieli sterlati su buona parte del territorio. Per quanto riguarda le temperature saranno in calo nei valori minimi con valori al di sotto dei 10 gradi nelle zone interne. Stazionare invece le massime. Venti più insistenti dai quadranti settentrionali sulla Puglia centro-meridionale, altrove più calmi. I mari, molto mosso il basso Adriatico e lo Ionio, poco mosso altruve. Da oggi avremo un nuovo servizio gratuito. Previsioni sul vostro telefono aggiungendo dall'app Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Vittorio Zaccaro per questo incantevole tramonto sui monti del Cilento, fotografato da Maratia. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e all'email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.